L'Aquila, capitale italiana della cultura per il 2026, è innanzitutto un grande onore, è una grande emozione, il riconoscimento del lavoro che abbiamo fatto in questi anni, insieme a tanti compagni di percorso che hanno sposato la filosofia e le finalità del nostro dossier, parlo di tutti i comuni del cratere, più in generale dell'Abruzzo, della regione Abruzzo e dei territori, delle aree interne che hanno subito anche loro i sismi del centro Italia. È un elemento di riscatto dei territori appenninici che sono in grado di trovare attraverso la propria identità che è intrisa di cultura, gli elementi per ripartire dopo eventi che ci hanno segnato profondamente ma non ci hanno sconfitto. La cultura è anche una proiezione verso il futuro, non è solamente il passato che noi abbiamo ereditato, è futuro perché guarda i giovani, guarda le nuove tecnologie ma soprattutto guarda ad una forma di ricostruzione del tessuto sociale della nostra comunità e delle nostre comunità che oggi ancora di più possono guardare fiduciose all'avvenire che le attende. Grazie.